Buongiorno e buona domenica. Apriamo questa edizione del telegiornale con alcune notizie di cronaca. Cominciamo con un incidente che si è verificato questa mattina ad Azzano X dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone per un incidente stradale in cui un'auto colpiva l'isola di traffico nella mezzeria della carreggiata terminando la propria corsa pochi metri dopo abbattendo la segnaletica e rilasciando olio sulla sede stradale. In colmo il conducente, l'unico coinvolto nell'impatto, i pompieri chiudevano la strada deviando il traffico verso le vie laterali per consentire il ripristino in sicurezza dello scenario sul posto anche di carabinieri di fiume Veneto. Prima dell'incidente di Azzano X un altro incidente si è verificato all'alba intorno alle 4.30 in località La Comina a Pordenone lungo via Roveredo. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine il conducente della vettura ha perso il controllo e la macchina è finita a ruote all'aria. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di un'automedica e un'ambulanza provenienti entrambe da Pordenone insieme ai vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi. Andiamo invece a vedere sul web della notizia di una donna, un altro caso di cronaca, che è stata investita da un'automobile parcheggiata senza il blocco del freno a mano che dunque l'ha travolta spostandosi dalla zona in pendenza dove era stata fermata dal conducente accaduto a Tarvisio. Si tratta di una donna di circa 80 anni di età che è stata ritrasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con diverse fratture, alcune delle quali severe. Questo per quanto riguarda la cronaca, adesso andiamo sulle pagine dell'agenzia ANSA per darvi qualche notizia dall'Italia e dal mondo. Cominciamo con l'apertura delle grotte vaticane che dunque consentirà ai fedeli di poter portare il loro omaggio a Benedetto XVI. Come potete vedere ci sono già alcuni fedeli che hanno approfittato di primo mattino di questa apertura che è avvenuta alle ore 9. Altre notizie che arrivano invece dall'agenzia ANSA dal conflitto tra Russia ed Ucraina con Mosca colpite da razzi ucraini, le centrali elettriche a Donetsk, Kiev, bombe russie a grappolo nella regione di Zaporizia, missili a Kharkiv, Zelensky ribadisce, tregua falsa, pace solo quando gli invasori saranno espursi. La tregua non ha funzionato perché anche durante il periodo indicato per la tregua fino alle ore 24 del giorno 7, dunque fino alla mezzanotte di ieri la Russia ha continuato a bombardare, quindi il conflitto è andato avanti senza il rispetto della tregua. Del resto Kiev aveva ammonito Mosca, avrete la tregua soltanto se ve ne andrete dall'Ucraina, se ci sarà il ritiro delle truppe. Adesso parliamo invece di autonomia perché in un'intervista a Radio 24 il ministro Calderoli ha parlato della legge, il disegno di legge che dovrà definire le modalità per l'autonomia differenziata. Vedo dei timori ideologici nei confronti del testo sull'autonomia differenziata, affermo restando che i 120 sindaci che hanno scritto al Presidente Mattarella rappresentano una percentuale molto bassa rispetto a tutti i sindaci italiani. Si riferisce alla lettera che è arrivata appunto al Presidente Mattarella con la firma di 120 sindaci che temono che possa esserci in Italia una divisione, una spaccatura in seguito all'adozione dell'autonomia differenziata. Il ministro Calderoli l'ha riferito al caffè della domenica di Maria Latella su Radio 24, ha poi aggiunto non ho mai inteso dividere il paese né favorire regioni che già viaggiano a velocità diversa rispetto alle aree più deboli d'Italia. Il mio auspicio è che tutti aumentino la velocità del nord che con l'autonomia può accelerare e un sud che finalmente si avvicini alla velocità del nord. In questo modo cresce tutto il paese, ha aggiunto Calderoli. Andiamo a vedere invece le immagini di un salvataggio che è stato effettuato ieri di migranti, migranti che poi andranno ad Ancona così come è stato stabilito dal Ministero dell'Interno. Dovrebbe arrivare mercoledì mattina la nave Ocean Viking che ha soccorso 37 migranti a largo della Libia e la prima delle due imbarcazioni, l'altra è la Geo Barents con a bordo 73 migranti soccorsi, sono stati entrambi assegnati al porto marchigiano di Ancona per lo sbarco e l'assistenza. Lo riferisce il prefetto di Ancona, D'Arco Pelos, in queste ore la prefettura sta coordinando l'operazione di sbarco e di assistenza dei migranti. La nave Ocean Viking approderà la banchina 22 che non interferisce con le attività portuali, ha una zona ampia con spazi per installare le strutture che saranno adibite all'assistenza e espletare tutte le operazioni. Le destinazioni? Attendiamo le indicazioni del Dipartimento, serve il prefettore ancora, ma non ci saranno tentennamenti, faremo tutto quello che è stato sempre previsto. E adesso i dati economici che continuano a preoccupare nonostante l'inflazione sia cresciuta meno di quanto previsto dalle stime. Tuttavia si è preoccupati, c'è preoccupazione per ulteriori eventuali interventi da parte della Banca Centrale Europea sul costo del denaro. Sentiamo. L'inflazione nell'area euro dopo i picchi dei mesi scorsi resta elevata ma cala più delle attese scendendo a dicembre sotto il 10% mentre negli Stati Uniti il mercato del lavoro batte le attese degli analisti pur allentando per il quinto mese consecutivo dell'ultimo mese del 2022 infatti sono stati creati 223.000 posti di lavoro più dei 203.000 previsti ma meno dei 256.000 di novembre. Il tasso di disoccupazione è comunque calato 3,5% e in un anno sono stati creati 4,5 milioni di posti in tutta l'America il secondo miglior anno della storia dopo i 6,7 milioni del 2021. Dati che generano dunque un timido ottimismo sulle due sponde dell'Atlantico ma che non sembrano al momento in grado di cambiare la strada dei rialzi intrapresa da BCE e Fed con le rispettive decisioni di politica monetaria attese nelle prossime settimane. Le piazze finanziarie europee chiudono tutte positive con Milano che guadagna l'1,4%. A Wall Street i listini salgono di oltre l'1,5% festeggiando la frenata degli aumenti dei salari in USA che potrebbe aiutare la Fed nella sua lotta all'inflazione. Nel dettaglio in Eurolandia l'inflazione secondo la stima flash di Eurostat è attesa a 9,2% nel dicembre 2022 ma in calo rispetto al 10,1% di novembre. L'andamento dei prezzi mostra però ampie divergenze fra paesi. La BCE continua a ribadire che i rialzi proseguiranno probabilmente a una velocità dello 0,50% in febbraio e in marzo. Adesso parliamo del Covid in Cina che ha eliminato la quarantena obbligatoria per i cittadini stranieri in arrivo dall'estero mettendo così fine a tre anni di isolamento in un momento in cui stanno registrando nuovi, si stanno registrando nuovi focolai nel paese con migliaia e migliaia di nuovi contagi al giorno e anche tante vittime, diremmo milioni di nuovi contagi al giorno e migliaia di vittime in Cina in questo momento. La quarantena prevedeva inizialmente un periodo di isolamento di tre settimane in un Covid hotel, poi la durata è stata ridotta a una settimana la scorsa estate ed infine a cinque giorni nel mese di novembre. E adesso vi parliamo di noi, di TV12, perché i programmi sportivi di ieri, ma l'intera giornata in genere dunque l'emittente tra quelle rilevate nella nostra regione è stata la più vista in Friuli, Venezia, Giulia. In generale con un dato di quasi 50 mila spettatori nel giorno di ieri e relativamente invece alla fascia oraria delle trasmissioni sportive studio e stadio e di seguito anche aspettando studio sport con 35 mila telespettatori, un ascolto medio di 3,5 e quasi un punto di share. Sono tutti dati molto importanti per un emittente locale come la nostra conferma che la programmazione sportiva e non solo continua a riscontrare il gradimento di voi che ci seguite, per questo vi ringraziamo e vi ricordiamo anche che oggi si va ancora avanti con lo sport e non solo con lo sport perché dalle 17.30 avremo la trasmissione studio sport con collegamenti dal Carnera, punteggi aggiornati in tempo reale delle due partite delle squadre di basket tra quindi il Carnera e la gara che vede impegnata a Ravenna la gesteco di Cividale e poi questa sera l'altra domenica per tornare sulla partita di ieri tra Juventus e Udinese. Seguiteci come sempre numerosi e noi vi ringraziamo. Andiamo avanti proprio con lo sport adesso. Cominciamo con il riepilogo dei risultati risultati finora maturati nella giornata di Serie A il turno, andiamolo a vedere qui numero 17 con tre partite disputate, la Fiorentina che ha battuto il Sassuolo per 2-1 la Juventus come sapete ha vinto contro l'Udinese 1-0 all'ultimo respiro, poi Monza-Inter è finita 2-2, una partita questa dal risultato e dall'esito rocambolesco visto come è andata con un gol annullato all'Inter, un gol buono che poteva essere il 3-1 e poi il pareggio del Monza. Le altre gare oggi alle 12.30 quindi tra poco scendono in campo Salernitana e Torino, alle 15 Lazio-Empoli e Spezia Lecce, alle 18 Sampdoria-Napoli, alle 20.45 Milan-Roma, alle 18.30 Verona-Cremonesi, alle 20.45 Bologna-Atalanta. In questo momento la classifica vede la Juventus balzare al secondo posto a 4 punti dal Napoli che sarà il prossimo avversario della Juventus stessa al Diego Armando Maradona di Napoli ma Napoli che ancora deve giocare la sua partita oggi contro la Sampdoria. Anche il Milan spera di rimanere lì in alto e di accorciare possibilmente le distanze e l'Inter ha perso un po' il treno dopo aver battuto proprio il Napoli e si è fatto bloccare dal Monza sul pareggio. L'Udinese rimane lì a quota 25, Udinese e Fiorentina hanno già giocato, dunque non c'è pericolo che nessuna squadra, solo il Torino in caso di vittoria potrebbe agganciare l'Udinese ma la posizione rimarrebbe salva, l'Udinese che affronterà domenica prossima il Bologna. Ma vediamo come è andata allo stadio della Juventus, allo Juventus Stadium, ieri con il punteggio di 1-0. Le azioni principali nel servizio di Stefano Giovampietro. Per l'Udinese arriva la nona partita senza vittorie sul campo della Juventus in una sfida tra due squadre, i bianconero, che di bianconero in campo hanno ben poco. All'inizio un minuto di ricordo per Ernesto Castano, campione del mondo del 68 e soprattutto l'ex capitano della Juventus Gianluca Vialli che ha alzato la Champions League nel 96. Momenti commoventi che poi sono sostituiti da quelli della partita, della cronaca con Wallace che di testa va subito ad impensierire Czesny. Il numero 11 bianconero è uno degli elementi più attivi a impegnare il portiere polacco. L'Udinese gioca, tiene il campo ma le grandi occasioni ce l'ha la Juventus. Bravissimo, qui Silvestri a volare sul colpo di testa, botta sicura di Rugani su una punizione dalla sinistra. Davvero molto bravo l'estremo difensore dell'Udinese che sarà protagonista della partita. Si ripeterà infatti prima della fine del primo tempo Silvestri su questa percussione di Kenno. Molto bravo in uscita Silvestri a dire di no all'attaccante italiano anche se poi ci sarebbe stato un fuorigioco a vanificare la giocata del numero 18 della Juventus preferito ad Arkadius Milik. Tanti striscioni di ricordo per Gianluca Vialli. Juventus che nel secondo tempo alza il ritmo, sale di tono ancora Silvestri a dire di no a Filip Kostic alla sua percussione centrale, poi una carambola favorisce la difesa friulana che tiene botta e gestisce anche piuttosto bene le scorribande della Juventus che cerca ancora di arrivare in area di vigore. Lo fa con la combinazione Kostic-Rabiot, il tiro del francese passa sotto le braccia di Silvestri e finisce addirittura in fallo laterale. Poi entra Chiesa tra gli altri e cambia il match con la giocatissima di Paredes a pescare proprio Chiesa alle spalle della difesa. Lavora benissimo il pallone, il numero 7 della Juventus lo mette al centro per il tapin. Facile facile di Danilo, segna proprio il capitano della Juventus nella serata dedicata alla memoria di Gianluca Vialli. Un gol pesantissimo per l'ottava vittoria consecutiva della Juventus senza gol subiti che sale provvisoriamente al secondo posto alle spalle del Napoli. Per l'Udinese invece è la nonna senza vittoria. A fine partita in esclusiva ai nostri microfoni il tecnico Andrea Sottil, i due dei protagonisti in campo, Lovric e Perez, che parlano con molta onestà anche del clamoroso errore che ha permesso alla Juventus di vincere la partita. È stata una buona partita, una partita giocata a viso aperto contro una grande squadra in casa loro, entusiasmo, striscia super positiva, sette vittorie di seguo senza far prendere gol, però secondo me i ragazzi l'hanno affrontata bene, abbiamo tenuto bene il campo, siamo stati molto aggressivi in avanti, abbiamo avuto anche delle situazioni e con lì forse dobbiamo essere un po' più cinici, un po' più cattivi negli ultimi metri, dove la Juve chiudeva molto gli spazi, dovevamo fare qualche cross più veloce dentro, però c'è anche la grande solidità di questa squadra, della Juventus, che non prende gol, compresa oggi purtroppo, da otto partite. Potevamo fare anche noi gol, poi la disattenzione finale è una doccia fredda, peccato perché lì dovevamo stare molto più attenti, troppo facile il gol concesso da Juve lì. È un gran peccato perché penso che abbiamo fatto una buona partita, siamo stati buoni nella partita, anche primo e secondo tempo, in tutte e due le fasi, offensive e defensive, e alla fine sì, è un gran peccato perdere quella partita. Abbiamo fatto una grande partita, una giocata che ha cambiato tutto, il risultato, peccato per tutto l'esforzo che abbiamo fatto, sappiamo la qualità che ha la Juve, quindi non possiamo mollare mai perché in una giocata così loro fanno la differenza. Continuiamo con il calcio, tutte in campo, alle 14.30, le squadre del campionato di Serie C, Girone A. Andiamo a vedere quali sono i match, tra i quali quello del Pordenone e quello della Triestina. Cominciamo con Albinoleffe Pro Sesto, Juventus Next Generation Pordenone, Vicenza Padova, Novara Mantova, Pergolettese Lecco, Propatria Ferral Pisalò, Pro Vercelli Trento, San Giuliano Renate, Triestina Arzignano, Virtus Verona, Piacenza. Vediamo anche la classifica che è molto compatta, ci sono sei squadre in un pugno di punti, sei punti dalla Ferral Pisalò che è prima, ma con un vantaggio di un solo punto sul Vicenza, due sul Pordenone, tre su Lecco e Pro Sesto, e cinque su Renate e poi sei, chiude questa speciale classifica di alta quota, la Propatria con 32 punti. La Triestina purtroppo, vedete, lì ultima con 15 punti, ha necessità di rimettersi in linea con una serie di successi e risultati positivi per poter sperare, quantomeno di lottare fino al termine, per evitare la retrocessione tra i dilettanti. Andiamo a sentire quali sono le ultime in casa dei Ramarri nel prossimo servizio. Dopo il poetico e romantico ritorno, seppur in amichevole del Pordenone alla bottecchia contro il Fontana Fredda nel test giocato in settimana e vinto dalla squadra di Di Carlo per 5-1, adesso è tempo di nuovo di fare sul serio. La formazione del presidente Loviso, in attesa anche di novità dal mercato, dopo una flessione durata circa un mese tra novembre e dicembre, con quattro pareggi e una sconfitta in cinque partite, era tornata alla vittoria proprio il 22 di dicembre nell'ultimo match disputato nell'anno solare. Contro la Triestina era arrivato un successo, in pieno recupero uno di quei successi che di colpo ti permettono di tornare a sognare, uno di quei successi che ti tornano a dare entusiasmo dopo un periodo difficile, sì perché se contro gli Alabardati fosse finita male, davvero allora la squadra di Mimmo Di Carlo avrebbe potuto trovare serie difficoltà anche in questo 2023 e invece quella rimonta, insperata con le reti di Borai Episcopo, hanno ridato tutto un altro senso al finale di anno dei ramarri. Dall'altra parte il Pordenone si trova, una Juventus anch'essa in difficoltà nel finale del 2022, una sola vittoria nelle ultime sei gare, una posizione che uscilla verso il dodicesimo posto, a un punto dai play-off, sì ma anche a tre dai play-out e se nella Juventus ci saranno gli ex Udinese Palumbo e Compagnon e da tenere d'occhio ci sarà il giovane classe 2004, prima punta Mancini, nella Bordenone di Carlo non sta a fare molti calcoli e probabilmente schiererà quasi la stessa formazione che aveva battuto. La Triestina in porta dovrebbe esserci festa con Bruscagin, Pirrello, Agetti e Benedetti in difesa, a centrocampo Burrai con Torrasi e Zammarini, Deli potrebbe fare il trequartista dietro a Candellone e a Palombi che da seconda punta potrebbe essere avanzato ancora. Di qualche metro ovviamente il Pordenone parte favorito ma occhio alla Juventus che ha bisogno di punti. Apriamo la pagina della pallacanestro con la pallacanestro femminile perché la squadra femminile dell'Apo, l'Apo Women, ha battuto la prima in classifica. Castelnuovo scrive a ieri, Castelnuovo ha perso l'imbattibilità proprio al Pala Benedetti di via Marangoni con il successo da parte della formazione allenata da Massimo Riga per 59 a 51. È stata davvero una vittoria molto importante che porta a 12 la striscia, l'incredibile striscia vincente delle ragazze udinesi che adesso affronteranno la prossima gara in trasferta contro Milano dove sarà ancora un match di altissima classifica e la Delser punterà a prendersi la rivincita della prima giornata d'andata quando Milano vinse ad Udine. Poi Udine ha inanellato la serie incredibile di vittorie compresa l'ultima contro Castelnuovo scrive che ha portato ad agganciare il primato e far perdere l'imbattibilità proprio alla formazione di Castelnuovo. Adesso invece per quanto riguarda il basket maschile la serie A2, due partite che ricordo ancora seguiremo in tempo reale oggi in studio sport. Vediamo il quadro del programma di oggi della serie A2 con Mantua che affronta Nardò alle 12 in questi momenti dunque si sta giocando la partita poi tutte alle 18 le altre Udine contro i chiusi, Chieti Ferrara, Bologna, Sansevero Pistoia Forlì, Ravenna, Cividale, Rimini 100. La classifica vede tre squadre in testa con 24 punti seguite dalla APU Old World West a 20. Cividale si attesta a 16 punti nella parte sinistra della classifica. Il punto in casa APU. Sentiamo il servizio. La più Old World West della gestione Carlo Finetti si prepara a fare il suo esordio casalingo dopo l'importante e pesante blitz in terra pugliese contro Sansevero e l'occasione è perfetta per celebrare il primato ancora una volta ottenuto dal Palacarnera come percentuale di riempimento che finora in questa stagione si attesta al 79,8%. Un assist ulteriore alla voglia di grande basket della piazza udinese e ad alimentare il progetto Palacarnera 4.0 presentato lo scorso dicembre. Udine fa il doppio della media del campionato di A2 a livello di spettatori ed è anche seconda per media spettatori portati ogni domenica al Palazzo. Ecco, gentili e compagni ora vogliono ruggire nuovamente in casa come hanno fatto nell'ultimo appuntamento casalingo del 2022 contro Ferrara. Servirà un successo per approfittare dello scontro diretto tra Pistoia e Forlì in attesa di vedere cosa farà 100 prossimi avversari a fuori casa. Per ora il duo di allenatori Finetti e Grazzini si preparano una sfida particolare contro la Toscana Chiusi. Il senese Finetti e Grazzini natio di Pescia in provincia di Pistoia vivranno una serata sicuramente particolare ma da non sbagliare puntando ancora senza dubbio sull'esuberanza di un brisco incontenibile per la categoria. La regia di Monaldi ha già cominciato a far sentire i suoi effetti benefici e il pubblico di casa non vede l'ora di vedere dalla propria parte quel playmaker che fu decisivo tre stagioni fa per il successo della GV Napoli proprio sul parquet friulano. Per quelli che c'erano l'anno scorso invece sarà un riassaporare la serie di semifinale chiusa con un 3-0 comunque meno agevole di quanto dica il risultato finale. L'Umana Chiusi è avversario subdolo e pericoloso e l'APU Old Wild West Udine sa che deve restare concentrata per 40 minuti per continuare sul suo processo di crescita. Obiettivo vincere e mettere pressione a 100 in vista del big match di domenica prossima. Andiamo a sentire invece e a vedere il servizio su Cividale che si appresta a giocare in trasferta con l'obiettivo di tornare al successo. La web gesteco Cividale ha finalmente ritrovato il sorriso nell'inizio di questo 2023 battendo in maniera perentoria Mantova in casa tornando a fortificare il fattore casalingo che si era leggermente perso contro Ferrara e Chiusi ma che era stato fatto rispettare niente meno che all'APU nel derby del pre-immacolata. Da lì erano arrivate tre sconfitte ma era rimasta comunque tanta fiducia visto che due volte su tre erano arrivate all'ultimo pallone giocabile. Contro i Virgiliani Cividale non ha voluto rischiare e l'ha chiusa tutto sommato presto anche se con un po' di sana preoccupazione per le condizioni dell'americano Rodney Clark vittima di un problema muscolare al flessore. L'ex Scafati, autore di 18 punti con 5 su 7 da 3 vuole provare a esserci ma Pilla Strine già pronto a studiare soluzioni alternative in caso di forfait di uno dei suoi due USA. La sfida di Cesena sul campo di Ravenna non sarà facile come dice la classifica o come dice la gara di andata vinta dai ducali di 10 punti. Bisognerà sudare e lottare per vincere un altro scontro diretto e consolidare la permanenza nella categoria obiettivo principale della stagione. Intanto anche la web Cividale si gode un bel piazzamento nella graduatoria di riempimento dell'impianto di gioco issandosi addirittura al quarto posto di tutta la 2 con il 65,1%. Sesto se si considera la media spettatori di 1.803 più di ogni altra neopromossa. Una passione travolgente come dice lo slogan della campagna abbonamenti riaperta in occasione del girone di ritorno con tre scontri con le big all'orizzonte. La spinta dei tifosi però non può attendere il prossimo match casalingo contro Pistoia e perciò per la prima volta al seguito della squadra ci sarà un'intera corriera di tifosi che partirà da Cividale per seguire Rota e compagni e per provare a guidarli a una fondamentale vittoria. Abbiamo chiuso qui il nostro telegiornale prima però andiamo a vedere il quadro della nostra proposta televisiva per quanto riguarda lo sport con le trasmissioni Studio Sport a partire dalle 17.30 la prima mezz'ora dedicata al prepartita di Udine Chiusi che poi sarà trasmessa in differita alle ore 22.15 e poi alle 21.15 invece l'altra domenica entrambe le trasmissioni in diretta sia Studio Sport che l'altra domenica si parlerà di tutto lo sport della nostra regione partendo dall'Udinese che ieri come detto ha perso a Torino ma ha giocato comunque una buona partita un focus speciale su questo match tutto il resto in Studio Sport Basket, Pordenone, Primavera e tutte le altre discipline sportive che hanno visto atleti e squadre impegnate in questo weekend grazie per essere stati con noi vi lascio al meteo a cura di Trebi Meteo arrivederci e buon proseguimento di domenica un saluto e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo agli amici di Udinese TV giornata di domenica con un tempo che volgerà ad un peggioramento sul Friuli Venezia Giulia la giornata si aprirà con cieli grigi coperti e con precipitazioni in formazione nel corso del pomeriggio sera il tutto per l'avanzamento di una perturbazione atlantica ora osserviamo più in dettaglio cosa ci attenderà tra Pordenone Udine e come si anticipava sarà una domenica con tempo perturbato cieli grigi coperti precipitazioni in formazione dal pomeriggio sera localmente fenomeni anche abbondanti poche variazioni termiche rinforzerà la ventilazione da sud in serata ora osserviamo più in dettaglio cosa ci attenderà tra Gorizia e Trieste e anche qui analoga situazione perturbazione atlantica attiva nel corso del pomeriggio sera i cieli oltre ad essere grigi favoriranno precipitazioni diffuse le temperature diurne non avranno variazioni significative toccheranno picchi ancora prossimi ai 10-12 gradi ma rinforzerà la ventilazione da sud sul comparto costiero in serata con questo per il momento è tutto maggiori dettagli vi attendono come sempre sulla nostra pegratoita Trebi Meteo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti